Pronti, partenza, via! Inibitori di pompa protonica sono una classe di farmaci usati nel trattamento della pirosi gastrointestinale, ovvero il bruciore di stomaco. Come suggerisce il nome, agiscono inibendo la pompa protonica delle cellule ossintiche, ovvero le cellule deputate alla sintesi dell'acido cloridrico nello stomaco. Tali farmaci inibiscono in maniera irreversibile tale trasportatore, per cui l'assenza di ioni idrogeno nel succo gastrico determina un innalzamento del pH. Sono farmaci molto efficienti, tanto che già dalle prime somministrazioni si ha un'inibizione di circa il 90% di tutte le pompe protoniche gastriche. Sebbene siano farmaci molto ben tollerati e di utilizzo sicuro, nelle terapie croniche possono dare il ridotto assorbimento di vitamina B12, per cui in soggetti con ridotto apporto di tale vitamina possono determinare lo sviluppo nel tempo di un'anemia megaloblastica, che però può essere contrastata assumendo integratori e sospendendo l'utilizzo di tali farmaci, che però hanno un effetto duraturo a causa dell'inibizione irreversibile del trasportatore.